allora buongiorno buona domenica roma 8 luglio come sempre faccio a passare un po un po di secondi oggi è domenica per cui non so quanta gente si collegherà e come ho detto questi video adesso li faccio dal mio canale privato perché voglio tenere separato rispetto al canale ufficiale di portavoce parlamentare a fianco a me o samuele che è il mio figlioccio e che mi darà una mano anzi farà la parte sostanziale a parlare di quella che è una rivoluzione morbida silenziosa sulla quale lo stesso beppe grillo se osservate il suo blog se seguite il suo blog ha speso diversi articoli ultimamente parlando appunto del car sharing carpooling quindi la possibilità di viaggiare assieme ad altre persone e quindi condividendone i costi e quindi basta essere in due per dimezzare questi costi allora partiamo proprio con qualche numero per far capire che il titolo non è assolutamente casuale perché i dati ufficiali di istat quindi insomma sono dati super pubblici dicono l'ultimo dato a disposizione è quello del 2016 che gli italiani per utilizzare l'auto quindi acquisto e soprattutto spese di esercizio quindi combustibile carburante e spese di manutenzione nel 2016 anzi scusate 2014 che l'ultimo anno di cui abbiamo i dati ufficiali ma capite che non sono variati di molto di molto hanno speso 143 miliardi 143 miliardi di euro in un anno spesi 30 34 miliardi circa sono stati per acquisto di automobili il resto combustibile manutenzioni e spese varie per l'utilizzo dell'automobile quindi una cifra immensa tanto è vero che sempre la stessa istat ci dice che è il 15 per cento del totale di quello che spende una famiglia quindi una famiglia spende il 15 per cento del proprio budget annuale lo spende per scusate il termine ma per me è così per la stramaledetta automobile perché noi mai siamo diventati come il cricetto che gira nella ruota nel senso che lavoriamo per acquistare l'auto pagare l'auto il combustibile l'assicurazione la manutenzione il 15 per cento di quello che facciamo del nostro lavoro se ne va nell'automobile ed è assolutamente troppo assurdo tanto è vero che noi siamo tra i più alti paesi per densità di automobile abbiamo 600 vetture ogni mille abitanti e quindi siamo già il 20 per cento in più della media europea e il 20 per cento in più di una media che comunque è alta perché comunque l'europa utilizza molto l'automobile il 20 per cento in più vuol dire veramente tantissimo perché è uno spreco perché il 97 per cento degli spostamenti che facciamo sono inferiori ai 50 chilometri e addirittura sono sotto i 10 chilometri sono sotto i 10 chilometri i tre quarti dei nostri spostamenti quindi facciamo spostamenti decisamente corti il 94 per cento della popolazione percorre meno di 120 chilometri al giorno ed è l'82 per cento 82 per cento di spostamenti sono inferiori 60 chilometri c'era un altro dato che volevo darvi eccolo qua circa un'ora al giorno più più di un'ora al giorno per gli spostamenti e altra cosa enorme in negativo è che l'automobile viene utilizzata giornalmente il 5 10 per cento del tempo che significa che per almeno il 90 per cento del tempo l'automobile è ferma parcheggiata che non fa null'altro se non togliere spazio alle città e ai cittadini 90 per cento del tempo è ferma e l'altro dato essenziale da cui partiamo che mediamente l'automobile è occupata da 1,5 passeggeri non occorre essere dei grandi statisti per mettersi a fianco di una strada densamente trafficata e vedere che la stragrande maggioranza delle automobili ha solo il pilota un passeggero seduto sopra qualche auto ne ha due e ancora meno un numero superiore a due tanto è vero che la media sono 1,5 passeggeri quindi vuol dire che mediamente noi utilizziamo un mezzo che pesa 15 quintali e che è costato una quantità spropositata di energia perché la percezione media del cittadino medio non è non si rende conto di quanta energia quanto lavoro c'è dietro alla costruzione di un'automobile spostiamo 15 quintali di un'automobile per spostare mediamente poco più di un quintale di passeggeri parliamo di car sharing carpooling beppe ne ha parlato tantissimo continuerà a farlo lo ringrazio e ne ha assolutamente ragione anche perché anche la legge dice che bisogna utilizzare più car sharing carpooling lo dicono i cosiddetti PUMS che sono i piani urbani di mobilità sostenibile che sono obbligatori per legge per tutte le città metropolitane che hanno o i comuni che hanno più di 100 mila abitanti quindi insomma in tantissime città italiane quindi dimezzare questi 143 miliardi di spesa si può fare semplicemente raddoppiando il numero di passeggeri per automobile e quindi siccome moltissimi di noi vanno al lavoro vanno a scuola assieme a tanti colleghi perché ci si reca nello stesso posto si fa almeno in parte della stessa strada la cosa più semplice è proprio unirsi noi italiani in questo che siamo maledettamente individualisti siamo tra gli ultimi negli altri paesi parlare di car sharing e carpooling è praticamente normale altri paesi intendo paesi esteri qui in italia sta crescendo sta crescendo i numeri sono in continuo aumento ma siamo ancora abbastanza indietro per cui ho voluto fare questa puntata di risparmio parlando proprio di quali sono le maggiori piattaforme che sono utilizzabili in italia e quindi qui cedo la parola a samuele che si è guardato appunto i principali siti menzionati anche da beppe adesso facciamo una piccola panoramica vi farò anche vedere qualche qualche schermata appunto di queste applicazioni bene allora come detto infatti ho studiato vari siti e ho controllato esattamente quali sono i pro e le vantaggi per utili di utilizzarli bene il primo che ho studiato infatti smash è un sistema basato quindi su una connessione triangolare tra cliente cloud e fornitore immaginatevi proprio un triangolo dove al vertice vi è il cloud quindi software che fa andare avanti tutto questo sistema e poi ai vertici sottostanti il cliente il fornitore cosa succede il cliente invia la richiesta al cloud è lo stesso fornitore poi un certo punto darà conferma o negherà l'accesso al proprio vettura quindi questo qua che cosa serve direttamente perché il lo stesso sito può controllare può vedere esattamente la trattazione che vi è tra il cliente il fornitore per renderla più sicura e anche più corretta ecco scusa cliente è chi vuole utilizzare un mezzo di altri il fornitore è colui che dalla è il proprietario della macchina quindi tra le varie innovazioni abbiamo infatti la connessione cloud al sistema quindi un software di nuova generazione ad alta tecnologia l'utilizzo del data quindi l'internet del telefono in caso di rottura tra i canali un tracciamento gps all'interno del software quindi dall'interno del mobile quando viene utilizzata la macchina quindi si attiva per controllare gli spostamenti le persone affinché naturalmente quando vi è adattazione si dice anche la destinazione è il punto di arrivo della macchina quindi controllano un team dedicato a controllare ogni spostamento alla macchina affinché sia corretto e poi anche la condivisione veloce sui veicoli utilizzati quindi naturalmente quando un certo punto tarai la il passaggio e finirà di utilizzare quel veicolo potrei dare il datore della macchina potrà dare subito disponibilità per altri sui fritori poi la seconda applicazione che ho studiato è stata proprio clacson che è un'applicazione che serve per chiedere e offrire passaggi alla hai la possibilità di vedere e analizzare i profili degli utenti che possono offrirti un passaggio bene proprio come vedete infatti qua all'interno della home page del sito possiamo vedere che sì che inoltre a essere disponibili all'interno per iphone e per sistemi android tra le cose che di cui vanta è proprio la possibilità di me a vedere analizzare i profili dei siti degli utenti che possono offrirti un passaggio quindi quando fai car sharing naturalmente il sistema e l'applicazione darà comunque importanza e controllerà le persone che utilizzano questa applicazione affinché tutto sia più sicuro poi anche la possibilità di vedere quanti utenti stanno soffrendo dello stesso servizio e veicolo quindi naturalmente per massimizzare e per rendere la macchina più piena finché comunque ci siano meno spostamenti con i veicoli e direttamente proveranno a mettere più persone all'interno della macchina per diminuire infatti sia i costi per la persona che sta utilizzando la macchina e per coloro che stanno soffrendo il passaggio e sia anche per ridurre la quantità di macchine all'interno delle strade poi se siete sardi naturalmente è un'applicazione molto utile per voi infatti è parecchio utilizzata in quella in quella regione è infatti anche stata premiata sassari per il premio per l'innovazione ma comunque anche di suoi liberi su una gasta naturalmente poi la terza applicazione è una delle più interessanti infatti e jojob è che l'applicazione che serve per offrire con vantaggi differenze passaggi non solo al a un lavoratore ma comunque anche questo registrato da un'azienda stessa ecco sì spieghiamo bene allora jojob la potete utilizzare sia che siate il lavoratore che lavora all'interno di un'azienda e quindi tramite questa piattaforma comunicate ai vostri colleghi che siete disponibili a utilizzare la macchina in modalità appunto comune e quindi caricare altre persone ma è la stessa azienda che può fare un'operazione appunto diciamo così aziendale e dire io metto a disposizione il mio parco veicoli aziendale perché venga utilizzato in maniera appunto comune comunque continua pure sono infatti quindi il lavoro che tra le varie azioni può fare sono stati proprio carpooling in casa lavoro quindi muoversi da casa spostarsi da casa al luogo di lavoro non solo con colleghi della stessa azienda il che può essere anche naturale ma anche con impiegati in aziende limitrofe quindi in aziende o comunque posti di lavoro vicini tra loro poi anche l'applicazione stessa calcola direttamente il costo del tragitto e suddivide le stesse spese ecco scusami samuel sto facendo vedere proprio quante aziende vabbè facciamo pubblicità ma pace bene ma è tanto per far capire che si siamo in ritardo però le cose si stanno muovendo perché le aziende stanno capendo che possono avere dei vantaggi importanti e i dipendenti ugualmente capiscono che possono avere vantaggi importanti viaggiando assieme ribadisco è una questione proprio di puro buonsenso anziché muoversi una persona un automobile l'automobile si muove con 2 3 4 passeggeri e quindi i costi vengono dimezzati o addirittura un terzo un quarto del dei 143 miliardi che ricordiamo lo 143 miliardi è il costo annuale per gli spostamenti con le automobili privati private che sostengono gli italiani una cifra pazzesca 140 miliardi ecco andiamo andiamo pure avanti simone sì bene poi anche avendo parlato comunque delle possibilità che danno che dalle lavoratori passiamo a quelle che dall'azienda infatti lo stesso sito se siete interessati potete vedere esattamente le opzioni che danno sia per il lavoratore che per l'azienda ora per l'azienda vi è il metodo jojo ovvero carpooling tra vari dipendenti anche con aziende limitrofe quindi un'azienda che cosa fa paga per questo servizio se lo gestisce da solo e direttamente può anche suddivide le spese e fare collaborazione con aziende limitrofe quindi può organizzare i propri dipendenti che abitano la stessa zona anche se sono di aziende diverse e organizzare i viaggi d'arrivo e di ritorno poi anche adesso parlando anche di costi sono parecchio modici per un'azienda infatti siamo siamo oscillando intorno ai 2000 euro l'anno quindi per utilizzare questa piattaforma l'azienda paga 2000 euro l'anno l'azienda non il lavoratore no no l'azienda e i dati dato importante è anche che 100 mila utenti finora sufficio nell'applicazione ma comunque questi costi sono anche giustificati dal fatto che anche se la stessa azienda si gestirà gestisce i propri vari spostamenti comunque la stessa applicazione da un team di supporto che continuerà ad assisterli e a controllare se i spostamenti vengono fatti in modo adeguato ok adesso passiamo a un'altra tanto è vero che io l'avevo inserito nel mio sito nella sezione risparmio ancora 3 4 anni fa ed è il famoso almeno per molti è già famoso bla bla car quindi un'altra applicazione che permette di fare carpooling quindi voi volete andare vedete qui il classico esempio da roma a milano da milano a genova torino a bologna vedete questi sono le tariffe per viaggiare assieme ad altre persone privati che mettono semplicemente a disposizione la loro auto si fanno pagare questi costi che vengono se non mi ricordo male vengono diciamo suggeriti da bla bla car vengono suggeriti ma comunque poi sia il colui che dà la possibilità di usare la macchina e i vari passeggeri comunque ci sarà una trattazione all'interno dell'applicazione stessa e quali verranno decisi i propri costi che verranno suddividi sia per persona che anche riguardo sia al tipo di tipo di veicolo che viene utilizzato il tipo di tratto il pedaggio le spese il carburante e anche se dovesse accompagnarli a domicilio una cosa importante che la inquadro bene è che vedete bla bla car ha stipulato una collaborazione con una compagnia assicurativa per cui i passeggeri sono esplicitamente assicurati quindi se dovesse succedere disgraziatamente qualche cosa comunque siete completamente coperti e quindi questo ovviamente dà un grosso sollievo una grossa confidenza nel poter utilizzare questa applicazione bene poi comunque volevo parlare anche di un'altra opzione che è molto interessante soprattutto per le donne che per la prima volta utilizzeranno questa applicazione e che è l'opzione viaggio rosa ovvero lo stesso sito lo dice anche se è molto sicuro naturalmente controllato alcune donne potrebbero sentirsi non a proprio agio a viaggiare per la prima volta quindi cosa succede? Dà la possibilità con questa opzione di metterti all'interno di un veicolo donne e passeggeri sono tutte donne quindi potete fare viaggi solo tra di voi e spettegolare finché volete sarete tra voi donne tranquillamente infatti ma comunque anche ritornando ai costi l'ultima cosa che mi viene a dire è che l'applicazione prende soltanto il 10% degli utenti per tragitto ecco questo è importante perché molti di voi si chiederanno ma tutti questi siti qua perché lo fanno? come fanno a stare in piedi? Naturalmente hanno un loro guadagno si trattengono una percentuale di quello che sono le transazioni che vengono fatte tra i passeggeri e i proprietari dell'automobile ci mancherebbe altro, devono vivere, devono stare in piedi quello che interessa al cittadino è capire che comunque gli costa meno che non prendere il treno, l'autobus un altro mezzo pubblico e naturalmente molto meno che non andare con la propria automobile uno per passeggero si e quindi comunque anche lo stesso sito lo dice naturalmente anche prendendo soltanto questo 10% colui che utilizza la macchina naturalmente riesce a coprire tutti i costi del viaggio tranquillamente se riesce ad occupare tutta la macchina con i passeggeri bene l'ultima sito applicazione che ho osservato è che è interessante che aveva indicato sul suo penultimo ultimo articolo facciamo vedere anche in questo caso l'home page questa diciamo è una delle ultime allora Samuene si si è una delle ultime naturalmente ce ne sono altre ma comunque queste che offrono di più le ho studiate e le ho trattate adesso bene quindi ShareMind in sostanza è un servizio online quindi direttamente non solo puoi farlo dal telefono ma puoi farlo anche direttamente dal pc per car sharing oppure noleggio a breve durata naturalmente lo stesso sito lo dice in inglese che molto spesso le persone possono trovare possono avere una macchina che utilizzano e quindi la lasciano inutilizzata parcheggiata da qualche parte quindi per poterci anche guadagnare qualcosa che cosa succede danno la possibilità di fare questo noleggio a breve durata ovvero che cosa fai il datore della macchina quindi colui che possiede la macchina da la possibilità di offrire la propria vettura in noleggio quindi guadagnarci una somma di denaro per diminuire le spese del veicolo quindi si accordano sempre tramite questo software triangolare tra persona, software e datore della macchina che si accordano e posso direttamente dire guarda io sono tizio mi serve la macchina in questo luogo a quell'ora quindi direttamente lasciamela là la utilizzerò per tutto il tempo e a un certo punto poi il sito o comunque le stesse persone potranno trattare e calcolare un prezzo per le spese e l'utilizzo della macchina bene poi anche una cosa importante interessante è stata fatta anche che ho notato che vi è una community quindi delle persone che all'interno del sito sono sempre attive, sono vivaci e sono anche sempre richieste di nuovi offerenti quindi non sarà difficile per voi che utilizzate questa applicazione trovare persone che sono interessate sia ad offrirti la macchina che a utilizzare la vostra in caso poi anche la cosa interessante proprio come BlaBlaCar non solo è disponibile in Italia ma se doveste, non lo so, viaggiare spesso all'interno di tutta l'Europa potete farlo semplicemente perché direttamente appena uscite ai confini o potete farlo anche prima potete collegarvi con persone estere, quindi non so, proveniente alla Francia, dalla Svizzera o dal Belgio che sono interessate proprio all'utilizzo della vostra macchina che lascerete là in caso o voi utilizzerete la loro macchina poi è anche interessante la possibilità di dare il nome del veicolo, luogo e fissare il pezzo scelto dall'utente infatti se in caso foste interessati ad utilizzare un veicolo specifico quale può essere un veicolo Fiat, un Honda o una BMW potete farlo, potete fissare come ho detto prima il luogo dove trovare la macchina e poi lo stesso e poi anche un prezzo che viene sia suggerito dallo stesso sito come BlaBlaCar ma comunque che però può essere trattato e scelto definitivamente dagli stessi utenti Ok, allora avete visto come direbbe un personaggio di Carlo Verdone avete ampia scelta ci sono parecchi siti e la cosa sta prendendo sempre più piede semplicemente perché man mano che la si utilizza si capisce che si risparmiano soldi quindi semplicemente si risparmiano soldi soldi si socializza anche perché ovviamente si conoscono persone con cui si fanno dei viaggi assieme si toglie traffico dalle strade si toglie traffico dalle strade qua l'appello lo faccio in primis ai romani ormai sono cinque anni e mezzo che vivo a Roma e non mi sono minimamente abituato al traffico il traffico è un qualcosa di offensivo proprio offende la logica al buon senso non c'è nessuna logica non c'è nessun buon senso nel fare 3, 4, 5 km di strada ciascuno sulla propria automobile centinaia di migliaia di automobili ciascuna con un passeggero per fare 3, 4, 5, 10 km molto spesso potrebbero essere fatti in comune con altre persone partendo dai colleghi di lavoro partendo dai colleghi di lavoro ora naturalmente questa è una parte della soluzione perché ci vuole molto più trasporto pubblico quindi più tram, più autobus, più metro sicuramente però per tutta una serie di passeggeri che fanno casa, luogo di lavoro in comune una parte della strada con altre persone basta semplicemente un po' di buona volontà è solo un modello culturale che noi ci hanno completamente disabituati a condividere la parola condivisione da decenni è diventata sinonimo di povertà tu devi avere due auto per famiglia devi avere due robot da cucina devi avere due facciatrici per l'erba devi avere due trapani devi avere l'ira di Dio perché altrimenti sei un poveraccio se lo condividi con gli altri significa che non te lo puoi permettere quindi siamo passati da 100 anni fa in cui si cercava di condividere tutto il possibile perché eravamo in una situazione opposta di grave povertà siamo passati all'estremo opposto abbiamo le case strapiene di oggetti che magari usiamo una volta all'anno e abbiamo queste, io continuo a ripeterle maledette automobili sono decisamente troppe le utilizziamo decisamente malissimo e ricordiamocelo inquinano pesantemente l'aria non sono certamente le uniche a inquinare l'aria ma sono ovviamente talmente tante al mondo abbiamo un miliardo e 300 milioni di veicoli con il motore a scoppio abbiamo detto molti di volte motore a scoppio lo ringraziamo, lo salutiamo ci ha dato una mano ma è un motore che ha 150 anni di vita e ha un rendimento del 20, 25, 30% al massimo che vuol dire che almeno il 70% dell'energia anziché far muovere le ruote va sotto forma di calore sui tubi di scappamento e riscalda il pianeta la cosa che dobbiamo assolutamente evitare quindi possiamo fare moltissimo e risparmiare soldi semplicemente utilizzando automobili in comune che non vuol dire essere poco ricchi ma vuol dire semplicemente fare una cosa di buon senso e decongestionare il traffico tutte le persone la prossima volta che salite al semaforo in coda e vi fate la coda ricordatevi che una parte della colpa è anche vostra una parte della colpa è anche vostra perché ci ostiniamo a viaggiare una persona per l'automobile mettetevi in comune diventate due persone d'automobile e magicamente il traffico dimezzerà non magicamente ma matematicamente matematicamente il traffico dimezzerà le code si dimezzeranno il tempo di trasferta casa, luogo di lavoro si dimezzerà e scusate se è poco è quello che vogliamo tutti quanti ci vuole semplicemente un cambio di mentalità un piccolo sforzo le prime volte per scegliersi la piattaforma di car sharing, di car pool in quella più adatta alle proprie esigenze quindi un piccolo sforzo di organizzazione dopo di che i vantaggi li avrete per tutti gli anni a venire quindi vi sollecito a condividere questo video con i vostri amici, con i vostri parenti cominciare anche semplicemente a chiedere al vicino di scrivania, ai vicini di piano ai colleghi che lavorano al stesso piano ai colleghi che lavorano nello stesso reparto della fabbrica che tipo di percorso fanno? se il percorso è in comune utilizzate auto in comune utilizzate queste piattaforme per scoprire se ci sono colleghi della stessa azienda o di aziende vicine che fanno lo stesso tragitto e mettetevi in comune qualcuno diceva che l'unione fa la forza in questo caso fa grande risparmio decongestionamento del traffico aria più pulita per voi e per i vostri figli quindi non c'è nessun motivo per non farlo io ringrazio Samuele che si è assorbito questo compito ovviamente gliele darò altri perché i giovani devono lavorare e sostituire noi vecchi progressivamente e condividete grazie a tutti trovate nel mio blog sezione risparmio tante tante altre notizie pratiche pratiche per risparmiare quindi grazie ciao a tutti buon altro dato grazie a tutti